buongiorno buonasera amici allora rocco sifredi rocco sifredi io lo lo conobbi con obbio ovviamente non di persona perché lui è un vip e io non lo sono e magari non ci tengo neanche ad esserlo lo conobbi mediaticamente quando io ero bambino bambino preadolescente mini ragazzino e insomma tra i 13 e 15 anni come come tutti i ragazzini e probabilmente anche le ragazzine avevo quei subbugli ormonali che capitano a tutti e all'epoca non c'era ancora web non c'era sì c'era internet ma diciamo che era una cosa elitaria per pochi e quindi la pornografia era diciamo un materiale abbastanza scarso abbastanza carbonaro usiamo questo termine cioè da gestire abbastanza insegretezza da acquisire in edicole da acquisire tramite amici con videocassette vhs c'era anche una soddisfazione maggiore rispetto ad oggi a fruirne perché comunque era una cosa che fa che dovevi soffrire di più nel trovare e quindi ti dava anche più soddisfazione rispetto ad oggi che prendi uno smartphone vai su you porn porn hub tutte compagnia bella e subito tutto facile no ecco lo conobi quindi mediaticamente in quell'epoca lui era un giovane uomo a 35 30 35 anni 40 anni quello che cazzo aveva e in un primo momento io e bistima e bistima di sifredi perché a parte essere indubbiamente lo è ancora adesso tanto più quando era giovane un uomo molto affascinante avere anche una bella voce e una bella presenza ma lo vedi comunque intervistato all'epoca più di più di vent'anni fa 30 anni fa adesso non so quanto cazzo è passato e lui raccontava di se stesso che aveva fatto l'università si era laureato mi sembra in architettura o se non si era laureato era arrivato a pochi esami dalla laurea faceva poi in questa intervista parte insomma enunciare i suoi titoli accademici denotava anche un'intelligenza un'intelligenza di fondo che comunque gli riconosco ancora adesso io gli riconosco ancora adesso che adesso in questo momento come ho scritto nel titolo io non ho più nessuna stima per rocco sifredi ma sapete come ho già detto in altri miei video molti magari sai si iscrivono magari adesso si iscrivono sono iscritti un mese fa molti non conoscono tutti tutto il percorso dei miei video quello che ho detto in altri video l'intelligenza che può avere una persona molto spesso non va di pari passo con la saggezza che può avere questa persona magari anche questa intelligenza la può utilizzare male la può utilizzare in maniera distorta oppure può avere semplicemente un'intelligenza prettamente nozionistica intellettuale ma non avere a livello di interiorità di spiritualità nessuna forma di nobiltà questa persona ecco col passare degli anni poi sifredi è diventato sempre più un simbolo un simbolo per la massa per la massa sifredi ha reso la pornografia pacchiana popolana e appiattita come il buono silvio berlusconi ha reso a livello televisivo quindi non pornografico la televisione nel diciamo nei suoi programmi che ha fatto adesso poi non apremo polemiche su silvio berlusconi perché io su silvio berlusconi ho fatto anche dei video di elogio ma non essendo io un leccaculo non essendo un leccaculo con i vivi e non essendolo neanche con i morti di silvio berlusconi riconosco delle forti qualità che ha avuto e dalle quali bisognerebbe secondo me anche prendere esempio come la tenacia la forza psicologica ma non ho assolutamente stima di lui sotto altri aspetti ecco ad esempio sotto l'ambito diciamo culturale è anche vero che ha duopolizzato la televisione quindi se non c'era lui ci sarebbe stata la rai che tutto sommato faceva schifo al cazzo come mediaset però ha appiattito e lobotomizzato le menti molto facili peraltro da lobotomizzare di milioni e di milioni di italiani ecco rocco si freddi ha fatto la stessa cosa nella pornografia l'ha resa volgare l'erotismo l'erotismo l'ha reso volgare l'ha reso pacchiano l'ha reso standardizzato l'ha reso gretto e la persona che vi sta parlando molti di voi mi conoscete già perché avete visto altri miei video e sapete che io sono una persona assolutamente assolutamente non sobria dal punto di vista sessuale cioè a me senza fare troppi giri di supercazzole di parole alla nikki vendola a me è sempre piaciuto fin troppo trombare e mi è sempre piaciuta fin troppo la figa ho anche avuto in passato quando ero più ragazzo dei grossi problemi collegati a questa cosa perché non nascondo che quando avevo 20 25 anni molto più prestante fisicamente di quello che sono ora ho riscosso un certo successo grandissimo ma non è che ve lo racconto per vanagloriarmi ma questo successo con le donne mi ha provocato dei problemoni dei problemoni per cui insomma sono anche sfociato in quasi forme da dipendenza dal sesso ok dal sesso dalla pornografia quindi chi vi sta parlando è tutt'altro fuorché un bigotto un prete o cosa però il discorso è questo che l'erotismo l'erotismo che di per sé è un aspetto bellissimo di questa vita che purtroppo come ho detto non ne faccio mistero in altri miei video è pressoché una un'ottantina di anni di sì di soddisfazioni ma anche di grosse rogne l'erotismo è una cosa bellissima il sesso è una cosa bellissima se poi accompagnato anche dall'amore è ancora meglio ma comunque ripeto è un aspetto della vita che chi ha la possibilità la fortuna di poterne godere non deve farne a meno e chi non ha la possibilità di poterne godere fa benissimo a usare io sono mancino e uso questo chi è destro usa questa la propria mano e quindi l'auto erotismo sotto certi aspetti può essere ancora più piacevole che l'erotismo stesso non sempre ma alcune volte lo è ecco si fredi ha volgarizzato tutto ciò ha volgarizzato tutto ciò l'ha reso standardizzato l'ha reso l'ha reso caffone l'erotismo se voi provaste a leggere alcuni romanzi erotici che ad esempio leggevo io ma non roba di alta letteratura ma anche solo quelli che vendevano nelle edicole gli armoni rossi quelli che insomma erano si distinguevano dagli armoni rosa perché gli armoni rosa erano per donne gli armoni rossi secondo me li compravano anche molte donne ma comunque avevano degli aspetti erotici al loro interno oppure anche della filmografia che adesso non so farvi dei titoli precisi ma ci sono dei film erotici soprattutto nel cinema francese anni settanta dove c'è un gusto per il piacere della figa un gusto per il piacere del cazzo un gusto per il piacere del sesso in generale ma in maniera raffinata in maniera aristocratica in maniera creativa ecco tutto tutto tutti questi aspetti di cultura aristocratica erotica e vi assicuro che quando dico cultura aristocratica erotica non tolgo nulla alle porcate che vengono fatte esposte in dei video di merda di sifredi o le sue relative produzioni cinematografiche hard anzi in molta di quella letteratura sia cinematografica che scritta erotica a cui mi riferisco io sono presenti a volte degli scenari ancora più porci ed eccitanti di quelli che vedi in un filmino di merda proprio gretto di sifredi oltre a questo sifredi è stato preso come come idolo perché poi ci vuole niente a fare in sto paese una persona un idolo e la grossa colpa che gli attribuisco a lui è che lui molto astutamente perché è una persona molto intelligente ma la usa malissimo questa intelligente questa intelligenza ha capito che questo suo potere seduttivo persuasivo sulla massa sullo sfigatello medio che sogna di avere il cazzo come lui apro una parentesi il cazzo di Rocco Sifredi è veramente mediocre secondo me cioè io quando mi dicevano a Sifredi 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 io non ho quasi mai visto suoi film o spezzoni di suoi film ma per curiosità sono andato a vedere perché sapete come quando ci sono quelle leggende metropolitane no che da una parola tira l'altra alla fine io mi immaginavo che avesse una gomma per bagnare l'orto al posto dell'uccello talmente ce l'avesse lungo e raga io quando gliel'ho visto in un in due tre cacate di spezzoni di film di film chiamali film quelle robe che fa lui cioè ho trovato un pene di dimensioni medie medie consistenti ma nulla di particolare peraltro un pene anche discretamente storto e malfatto perché adesso non voglio fare un corso di estetica sul cazzo in questo video ma oltre alle dimensioni conta conta anche insomma la drittezza se così si può dire e insomma le proporzioni anche del glande e di altre cose ecco ho trovato un pene sostanzialmente anti estetico ecco però nonostante questo bon il mito del cazzo enorme di Sifredi e stavo dicendo che lui molto furbamente ha reso piatto standardizzato volgare l'erotismo e ha compiuto sui ragazzi e anche sui non ragazzi un'azione che per carità non è colpa sua perché poi io come dico sempre in altri miei video se tu ti vuoi fare il lavare il cervello è colpa tua però voglio dire lui è stato molto abile nel farlo ha compiuto ripeto un'azione di di volgarizzazione che è entrata nel subconscio della mente collettiva soprattutto dei ragazzi maschi ma non sottovalutiamo anche le donne che molto spesso si involgariscono anche loro soprattutto in questi ultimi decenni e ha tolto quel piacere del vedo non vedo dell'erotismo sofisticato dell'erotismo glamour non so se mi capite dell'erotismo aristocratico che è quello che secondo me andrebbe coltivato in ognuno di noi perché uno può fare le le peggiori tra virgolette peggiori le migliori porcherie a letto ma farle in maniera glamour raffinata non sta stesse cagate mostruose e che poi come stavo dicendo entrando nel subconscio dei ragazzi delle ragazze tendono anche ad appiattire e ad omologare la mente di queste persone cioè poi un ragazzo magari seduce e conquista una ragazza che magari è fine e raffinata e magari dentro di sé ha anche un magma erotico che se se tirato fuori con un po di esperienza con un po di raffinatezza questa la trasformeresti in una porcella da competizione di cui in senso positivo una porcella competizione ecco in molti ragazzi questo queste questa pornografia da supermercato che ha creato ero così freddi ha fatto sì che questi ragazzi diventassero anche maldestri e che quindi ha adesso questa qui magari aveva bisogno questa ipotetica ragazza più raffinata di essere scaldata bene di essere lavorata bene di essere sedotta nel modo giusto e poi dopo tutte queste cose sarebbe veramente esplosa a livello erotico però questi poveracci queste persone invece dei ragazzi che sono stati cresciuti a pane e filmini di rocco di rocco non avendo appunto la cultura erotica raffinata necessaria non ne hanno tratto un cazzo e magari si sono presi un 2 di picche da questa non gli ha neanche fatto un pompino che magari invece se uno sapesse avesse saputo farci in maniera più raffinata questa sarebbe diventata un fuoco vivo un vesuvio vivente avete capito la stessa cosa vale anche per l'uomo però normalmente insomma per quanto adesso ci sia non ci sia più non si capisca più un cazzo tra uomo donna nei ruoli o cosa normalmente ancora è una prorogativa dell'uomo quella di di dover intraprendere certe imprese per convincere la donna a fare determinate cose a letto ok ha tolto ha tolto tutto il bello del del mistero e poi altra cosa che gli imputo a lui di veramente grave è che è una persona molto teatrale molto teatrale che sa abilmente come creare audience e quindi negli ultimi anni se qualcuno di voi l'ha seguito avrà visto mille volte fare da quest'uomo dei pianistei è andato in televisione dicendo che lui ha pensato aveva pensato più volte di suicidarsi che lui amava solamente la sua donna con quella donna con cui si è sposato il figlio che voleva smettere io l'ultima volta che l'ho visto qua su youtube l'ho visto frignare veramente in maniera indecente davanti a una giornalista per poi per poi cosa il giorno dopo perseguire nelle stesse attività che faceva il giorno prima anzi aprendo un'accademia in questa accademia facendo entrare delle povere da bellnate come l'ultima che adesso è sulla bocca di tutti sta elena sofia come cazzo si chiama che verrà irrimediabilmente rovinata nella sua giovinezza di ventenne nell'illusione di diventare una superstar praticamente facendosi trafilare come un colabrodo in dei filmini porno cioè avete capito il danno che ha creato questa persona è un teatrante è uno che fa teatro che piange poi è andato all'isola dei famosi anche lì c'è allora questo cosa fa sir che da un lato seduce le persone che vedi anche lui un'anima poverino però poi il giorno dopo fa sempre le stesse cose allora c'è uno ad esempio come franco trentalance che io ho seguito in altre interviste è molto più sobrio è una persona molto più riflessiva e meno ciarlatana di un si freddi ecco si freddi se vogliamo fare un altro paragone e il fabrizio corona secondo me dei pornodivi e infatti come fabrizio corona contanto che quell'altro ne fa di peste di corna è comunque seguitissimo questa è la mia opinione su quest'uomo è un'opinione assolutamente opinabile per usare una tautologia però per siccome io in molti video magari con voi faccio il trasgressivo a volte mi lascio tentare e lo faccio anche di parlare in maniera sboccata parlo di figa parlo di cazzo parlo di scopare vi dico scopate se potete tutto quello che cazzo volete ecco ma attenzione lo scopare il godere il fare l'amore anche cosa può essere una cosa contemplata e piacevole da persone come me ma persone come me possono assolutamente per quel poco che conto perché io non conto un cazzo per lui uno potrebbe scrivermi anche nei commenti qua sotto e sti cazzi daier perché io in confronto a si freddi sono un perfetto sconosciuto però lasciatemi lasciatemi dire che io non ho nessuna stima di questo uomo è un uomo che secondo me ha rovinato tanti tanti ragazzi ha rovinato la sessualità di tanti ragazzi di indirettamente anche di tante ragazze che su su queste rovine ci ha fatto anche tanti soldi che per carità non c'è nulla di male a farli però c'è anche un discorso secondo me che nella vita bisogna anche vedere oltre quello che è il bieco interesse economico questo è il mio parere su si freddi mettete un like commenti iscrizione al canale un saluto un bacio a tutti ciao